spazio alla radiovisione in questo caso spazio alla musica lo facciamo con un'accezione particolare accanto a me stefania ferretti sì di nuovo ben trovati a tutti alla mia sinistra maurizio fabrizio buongiorno maurizio cantante cantante compositore arrangiatore ecco vogliamo parlare di musica da un punto di vista particolare diciamo così perché spesso la musica si ascolta a volte si vede anche così vede un concerto si vede uno spettacolo in questo caso però noi parliamo di come si scrive la musica ecco come si scrive la musica un testo perché tutto se vogliamo parte un po da quello parte dalla scrittura noi lavoriamo in radio stefania dove si lavora con la voce sì però in realtà tutto parte anche qui dalla scrittura si scrive poi si legge un servizio eccetera nella musica della creazione della musica parte dalla penna in un certo modo dal compositore ecco e allora come è stato tra l'altro ricordiamo maurizio fabrizio record di presenza a sanremo proprio come compositore quindi anche da questo punto di vista è un record c'è sempre una piccola classifica tra me toto cotugno lo ricordiamo c'è molto affetto perché siamo lì insomma non so esattamente quante canzoni tantissime cantanti italiani tutti quasi successo anche che hanno vinto sì sì certo certo mi ricordo appunto riccardo fogli nell 82 poi l'anno successivo tiziana rivale con sarà quel che sarà e poi vabbè tre vittori tra i giovani per cui tante collaborazioni tanti esatto lavori di questo tipo ma com'è ecco comporre come scrivere delle canzoni dei brani che poi arrivano anche al successo per altri interpreti per altri cantanti cioè si sentono un po propri anche quei con le creazioni quei brani ma assolutamente beh scrivere è una bella domanda questa è un mistero è un mistero è un miracolo oserei dire perché la creazione veramente poi di una musica credo veramente l'ho sempre pensato è la cosa che più ci avvicina forse al divino e mi ritengo una persona molto fortunata a fare questo che non ho mai considerato un lavoro oltretutto veramente un puro divertimento una pura gioia e scrivere è un mistero perché la famosa ispirazione c'è ti prende un certo momento cioè c'è un momento effettivamente in cui si è invasi se vogliamo così dall'ispirazione ho imparato col tempo a non mettermi al pianoforte o alla chitarra quando non ho questa ispirazione perché allora diventa veramente un lavoro appunto tra virgolette e non nasce nulla di particolarmente Maurizio e Fabrizio ma nascono prima le parole o la musica questa io aspettavo oggi questo giorno è la madre di tutte le domande anche qui non c'è una regola non c'è una regola dovrebbe nascere prima la musica una volta almeno era così quando io cominciai ahimè 50 anni fa era così c'era il compositore di musica scriveva la la musica e poi le affidava un autore di testi di solito si faccia così ma col tempo le cose sono cambiate adesso non so per esempio Renato Zero con cui lavoro da tanti anni ormai fa solo sempre prima i testi li fa lui e me li dà me li manda e io scrivo la musica su quei testi per fortuna lui fa è molto bravo scrive dei testi molto musicali sono già delle canzoni cantano da soli quando per cui non ho molta difficoltà a musicarli però ecco questo per dirvi che non c'è proprio una regola può fare in qualsiasi modo anche contemporaneamente infatti la canzone che poi il perfetto sposalizio tra musica e testo alla fine che sia uno da solo a scrivere tutte due musica e testo oppure siano vari autori alla fine la canzone deve sembrare essere stata scritta da una persona sola perché musica e testo si devono assolutamente certo armonizzare un po' come per lennon mccarney non si capiva per tutti o mogol battisti o mogol battisti certo deve essere una una coesione sì sì una coesione assolutamente maurizio io ti faccio tre nomi ecco due in realtà li hai già citati riccardo renato io metto anche angelo ecco vogliamo anche associare questi nomi ovviamente ai personaggi e di cui a cui facciamo riferimento ma anche a degli aneddoti a delle situazioni a dei brani a cui tu hai partecipato intanto io devo dire oltre questi tre artisti io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti artisti meravigliosi sia come sia professionalmente che personalmente questa è stata veramente una fortuna queste tre persone assolutamente hanno rappresentato gran parte della della mia vita intanto artistica con riccardo abbiamo lavorato tantissimo una persona straordinaria ognuno ha il suo modo riccardo era un bravo è credosi ancora un bravo come dire ma non lo dico per essere riduttivo un bravo soldatino cioè lui entrava in studio si imparava la canzone sempre la faceva perfettamente come il compositore voleva e abbiamo raggiunto tante soddisfazioni tra cui appunto la vittoria il festival renato vabbè cosa dire di renato renato una persona talmente è talmente artista che sì questo caso forse esatto renato zero è quello che la musica la fa anche vedere come dicevo prima si vede lui la fa vedere tutto vedere con lui per esempio tutto è nato con i migliori anni della nostra vita quella è la prima canzone che ha inciso mia non ci conoscevamo ancora so appunto come volevamo parlare di aneddoti so che la canzone che era stata in realtà scritta da me guido morra per giorgia ma giorgia insomma per motivi suoi non la volle fare non ricordo neanche perché forse problemi legati al testo non ricordo poi arrivò a ornella a ornella vanoni che addirittura la incise la incise in un album che stava per uscire quando all'ultimo momento e questo fa parte dei miracoli all'ultimo momento il produttore di allora suo mario lavezzi mi chiamò e mi disse guarda Maurizio purtroppo ornella non non se la sente di mettere questo questo brano nell'album perché un po non c'entra niente con gli altri insomma mi disse una cosa del genere di sì va bene figure cose che succedono spesso e per vari percorsi varie strade come fanno sempre le canzoni che hanno un loro destino in una loro storia e sanno dove devono andare e arrivò al sul tavolo del direttore artistico della sony che forse allora si chiamava cbs e fabrizio intra che ricordo anche lui un affetto non c'è più purtroppo che la pensò immediatamente per renato e gliela fece ascoltare renato credo non la volesse fare però fabrizio intra lo convince a fare almeno il provino per sentire come come poteva essere il risultato cosa che renato fece e che e poi si convince anche lui diciamo meno male in questo caso il corso della storia invece angelo vabbè con angelo c'è una amicizia che dura da sempre noi ci siamo conosciuti avevamo tutti e due vent'anni a milano tra l'altro è strano perché io nel quartiere dove abitavo a milano lo vedevo lo vedevo sempre col suo motorino lui girava con un motorino per cui non era era impossibile non notarlo lo vedevo su questo suo solex allora si chiamava il motorino e con questa sua tuta blu e questi capelli diceva guarda che personaggio è strano lo vedevo sempre perché il quartiere comunque ci si vedeva tutti anche lui viveva lì e dopo un giorno un bel giorno un produttore romano dell'rca che io conoscevo mi disse guarda morizio mi chiamò mi disse devo farti conoscere un artista che ho tra le mani straordinario un ragazzo devi essere tu il suo arrangiatore perché ti piacerà vedrai dico va bene incontriamoci a milano e quando lo vedi entrare nella porta della porta delle edizioni dove lavoravamo dove ci dovevamo incontrare rimasi lui mi disse ma sei tu siamo già visti io ti conosco e nacque questa amicizia bellissima insomma che tuttora certo vuol dire è in corso varie collaborazioni musicali anche a livello poi di concerti di live l'hai accompagnato spesso tutto l'ho fatto moltissime sue tournei l'ultimo concerto che ho fatto l'ho fatto con lui l'ho fatto insieme a lui a londra due l'anno scorso giugno dell'anno scorso alla national gallery abbiamo fatto un suo concerto ma suonavamo solo io lui e il suo pianista sul disco che lui fece su san francesco perché c'era una mostra alla national gallery di san francesco e fu invitato ed è stato un bellissimo concerto però io altrettanto lui con lui insomma lui l'ho invitato a un oratorio che io ho scritto anni fa e che abbiamo rappresentato su sul tetto del duomo di milano insomma uno scenario bellissimo e lui rappresenta come voce pop insieme a un altro mio amico purtroppo non più presente che era mango bravissima è unico grande tanti aneddoti tante storie sì tanti artisti abbiamo detto amici insomma si diventa amici quando si collabora così a stretto contatto assolutamente assolutamente amici c'è anche una particolarità maurizio perché nel nel 2008 se non sbaglio hai composto tre brani per plassido domingo l'artista spagnolo tre brani all'interno di un album che è in qualche modo i cui testi sono stati ispirati dalle poesie di caro voitiua quindi anche qui una delle opere insomma importanti importantissime significato profondo è la musica appunto composta da maurice fabbricio certo io adesso non ricordo bene ma queste poesie ovviamente qualcuno professionista di testi forse le aveva non cambiate ma riadattate leggermente proprio per poterne fare dei testi che andassero bene per delle canzoni perché erano poesie e la poesia in sé mal si adatta il testo della canzone deve essere il testo della canzone per cui con delle sue regole precise dei suoi equilibri dei suoi spostamenti e quindi sì mi ritrovai a musicare tre di queste poesie è stato un lavoro bellissimo che io ricordo con molto amore e mi ricordo solo che mi fece molto impressione quando dovetti andare a firmare i bollettini della sia e dove gli autori appunto erano caro lui ti vuoi maurizio fabbricio il nome accostato a san giovanni paolo secondo le cose uniche misteri belle che succedono è vero in effetti poi hai citato l'amore maurizio effettivamente quando si parte dallo scrivere dal comporre una canzone un brano una musica arriva lì dal cuore è l'amore le emozioni che poi si mettono all'interno di un brano sempre i ragazzi quando ne ho fatto uno ultimamente proprio dieci giorni fa di master class la prima cosa che ho detto è quella evitate vabbè le tecniche le faccio tutto però partite dal cuore sempre partite dall'amore perché da lì senza quello non si fa nulla bisogna partire che poi sarebbe la famosa ispirazione che però sempre dal cuore dall'animo nasce il mio amico tocchino mi diceva in portoghese la canzone maurizio la canzone fatta di 10 per cento di ispirazione e 90 per cento di transpirazione sudore di lavoro però quel 10 per cento che per me un po' di più però è fondamentale è fondamentale ma certo certo bisogna sempre nascere dal tutto dal cuore qualcuno si scandalizzò quando bob dylan ricevette il premio nobel per la letteratura quindi questo per dire che le canzoni sono molto di più sono qualcosa di più non è voluto dire non era la poesia però si avvicinano anche alle poesie spesso si dice anche di de gregori che scrive sì sì si avvicinano io non sono molto d'accordo nel considerare le poesie anche con si dice il poeta non sono molto d'accordo devo dire questa cosa è nata un po con i cantautori sicuramente che hanno operato in modo diverso da un autore di testi normali però come dicevo prima ripeto il testo della canzone deve essere veramente il testo della canzone non importa che sia tra l'altro una poesia può anche non essere meravigliosamente bello può anche apparire dico un'eresia però lo dico tra virgolette banale se viene letto da solo senza ascoltare la musica ma questo è il miracolo c'è un grande maestro del cinema francese che è françois truffo che nel film la signora della porta accanto fa dire a un certo punto che le canzoni le canzonette detto contengono delle verità molto molto importanti molto vicino a tutti noi e questo è vero è vero raccontano di noi raccontano anche della nostra storia assolutamente sempre ma come le canzoni proprio credo nessun'altra cosa e non sono neanche d'accordo nel chiamarle canzonette esatto perché era in senso ironico che ben nato diceva sono solo canzonette sicuramente però molti lo dicono e non sono non sono canzonette sono momenti invitati sono opere d'arte veramente perché concentrare in tre minuti anche meno addirittura i beatles i primi tempi un minuto un minuto e mezzo sono veramente delle opere d'arte nulla hanno a che voglio dire non sono diverse da un'opera lirica perché che io dove mi sono cimentato per cui dove sei nato perché tu hai fatto il conservatorio sono nato lì l'ultima cosa che ho fatto un'opera lirica e nonostante c'è un grande lavoro veramente di tempi però non c'è differenza maurizio per il cuore siamo ormai in chiusura purtroppo il tempo esatto sta concludendo magari avremo modo di rinvitarti in studio a continuare a parlare di musica di creatività leggo e in chiusura un messaggio di un'ascoltatrice carlotta ciò che nasce dall'anima non può che essere un'armonia d'insieme tra musica e parole le canzoni più belle nascono quando chi le compone prova la massima ispirazione che nel caso ad esempio di carlotta fa riferimento proprio guidata da dio dallo spirito divino un po come accennavi anche tu prima sì ma infatti quello volevo dire che la cosa che più ti avvicina al divino è questo per questo dico siamo fortunati noi compositori veramente io la sento molto questa grazie 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 maurizio fabrizio grazie grazie noi salutiamo chi ci ha seguito finora sulla pagina facebook di vatican news chiudiamo ecco questo spazio musicale insieme a maurizio fabrizio grazie grazie a voi